ciao ragazzi eccomi qua in un altro nuovo video di sempre di sabato domenica mi ricordo di questo mascara un po curioso comunque vabbè dunque mi devo sbrigare a farvi questo video di post palestra perché non sono ancora andata in palestra da quest'estate cioè da questo sì vabbè da questo dai giorni che ho smesso andare in palestra poi non sono più andata quindi vi faccio video di prodotti sto guardando qua perché ho solo tre prodotti di cui utilizzo il splendor ce l'ho in doccia però far una foto veramente all'altro che penso che avete capito il splendor che parlo quello del cocco comunque sia ve lo metto da una parte o come video o come video nel senso come video o foto non lo so vediamo che dirvi ho deciso di fare il video dei prodotti post palestra che cosa utilizzo sia per capelli che per il corpo non utilizzo tanti prodotti a volte utilizzo solamente un bagno doccia e un deodorante dopo la doccia e stop vabbè per lavare i capelli ovviamente uno shampoo che ce l'ho sempre in doccia ma lo recupero e ve lo faccio vedere un altro momento oppure ve lo metto come sempre al lato vediamo come posso fare o se no ve lo dico direttamente un fructis antiforfora o anche al mango molto buono sempre della fructis garnier il tuo gli occhiali perché mi stanno facendo fastidio mascara aiuto allora come prodotto per i capelli sto utilizzando questo qua della garnier della garnier ultra dolce un minuto di posa ma io ne faccio anche più di un minuto dipende per capelli disidratati e secchi questo qua vedete già questo è molto buono e sto trovando stra bene fate i capelli da favola li districa bene a partire dallo splendor ma questo lo è ancora di più vabbè un po non è che ammorbidisce del tutto ma io dico del tutto tutto sì allora non mi sto capendo voglio dire me lo ammorbidisce più quasi dello splendor non so perché ma fa un bel capello un bel devo dire altro nulla poi ce n'è dove sei tu 300 ci ciao per cento si guarda anche dopo 340 ml questo qua dove sei questo sì ma non si vede niente aspettate ecco allora 340 ml il prodotto più il bagno doccia che vi ho detto già su facebook e instagram sto utilizzando questo però metti a fuoco metti a fuoco questo della dava che mi sto trovando bene da 450 ml il prodotto per un paio di 12 mesi e nulla questo è qwerty free qwerty free approvato a favore degli animali ovvero che per favore di animali nel senso che mi spiego beh adesso non affrettatevi a linciarmi che praticamente questo è contro la tortura degli animali è brutto a dire ma è così quindi questo c'è il disegnino vedete qwerty free che non è su testato sugli animali si lo so l'ho detto in una maniera bruttissima però è questa la verità che non è testato sugli animali bastava dire quello e invece ho detto una stupidata ma fa niente importante che ci siamo capite comunque questo è davvero del davvero quando ero piccola io mia madre me lo metteva sempre sotto il mio corpicino era una coccola di gioia per me immensa avere questo prodotto addosso a me provava ovviamente però risciacquavo ovvio come giusto che sia però che profumo ragazzi che coccolosità ragazze tutt'ora se ci penso quando me lo metto addosso per lavarmi in doccia è una coccola poi passiamo oltre questo 40 ml per un paio di 24 mesi si un paio di 24 mesi non si vedrà mai ma ve lo faccio vedere io ecco qua questo è il dav vi sto parlando sempre del dav tema dav oltre che ti voglio doccia e questo troppo è per l'ascelle e l'ascelle mi ci sto trovando benissimo è veramente meraviglio veramente meraviglioso perché è il mio preferito e non fa allergia come tanti altri allergia non si direbbe però mi dà fastidio si sento come una reazione allergica quando mi metto altri deodoranti questo non lo fa e mi protegge anche da poste rasatura queste robe così ma perché non mi raso quasi per niente perché aspetto momenti quasi sempre andare dalla dalla dal sedista e nulla quindi questo è quanto questo qua gli ho dav preferito e lo amo alla follia ragazzi se vi fa se passate in un quale sia si pro comeria o discount che sia prendetelo perché è top non per fare pubblicità ma a me piace davvero da matti adoro 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 questo dav e niente ragazze siamo quanti minuti siamo sei minuti comunque ogni volta che faccio palestra e torno a casa mi faccio la doccia con questi dei prodotti a parte che non sono questi a parte che non sono solo questi ma ce ne sono ben altri splendor garnier o anche questo questo qua tutti questi molto buoni già e niente ragazze questo sarà tutto io vi saluto vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao ragazze like pollicino all'insù un commento e iscrivetevi attivate la campanella grazie ciao ragazze a presto lo vedrete domani mattina questo video ovviamente lo vedrete domani mattina perché domani farò altri video dopo di questo quindi vediamo un po magari un video quotidiano farò al di sopra da struccarmi a struccarmi ciao